Io ancora devo realizzare che sono in Puglia ad Erchie da te State vedendo praticamente come Erchie si sta popolando di artisti Ho passato, siamo pronti Incredibile Ok, allora fra 20 minuti ci vediamo lì da te Cioè qui, ok? E' uscito il sole bianco, poi ti spiegherò E' uscito il sole bianco Sì, poi ti spiegherò Poi ti spiegherò Anzi, adesso l'hai capito perché Hai capito? Ciao Eh no, poi ti spiegherò Ciao Ciao Donatello è venuto a trovarmi, incredibile Tutti con la mano verso il cielo, lo sguardo verso il cielo Formiamo un grande arco, un grande arcobaleno Come disse Donatello Quello, quello, quello Vabbè, se arrivi, vada, è chiaro Comunque lui è in formato holiday, guarda Eh, fino a in formato ho capito, poi non ho capito più Allora, per quanto si vede con la telecolamera Ecco, che Donatello è pronto a fare la mia imitazione Dove sta andando? Guardate Scusate, allora, io ho fatto tutto Le cose sono a posto, il bagno non perde più, posso andare? Scusate perché L'uscita è di qua, di là E di là Vabbè, no, no, ciao, ciao Benvenuto ad Erkia Questa è la mia casa Grande, vabbè Vincenzo Vabbè, vabbè, vabbè Vabbè, vabbè, vabbè Ma che c'è da mai No, perché Ma qui perde ancora, no? No Ah, ma lei è la principessa? No, vabbè, è Beatrice, non la conosce. La conosce. Ehi, grandissimo. Grande, grande. Grande. Aspetta, aspetta che metto giù. Uè, grandissimo. Che grande, che grande. Sì, 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 vieni, vieni. Grande, grandissimo. Grandissimo. Vabbè. Ah, Ale, trovate tu le scarpe mie. Che grande, che grande, grandissimo. Applausi. È stato troppo bello. Io ancora non ci credo che c'è qui Donatello. E lui stava buscando per la strada gridando. Ma se glielo comando. Cari milanesi, abbiamo una cosa da dirvi. Siamo qui in Salento e in tre, Donatello, Raffaele ed io. E Michelangelo. E Michelangelo. Non possiamo avere la soddisfazione di cacciare i soldi da portafogli. Esatto, abbiamo fatto una colazione in tre e abbiamo speso... Solo cinque euro. Ma non è che abbiamo preso tre caffè qua e a Milano. Che forse cinque euro sarebbe un prezzo buono per tre caffè a Milano. No. Abbiamo preso di tutto. Cornetti, succhi di frutta e... Cappuccini. Gelato. Cappuccini. Fichi. Fichi. Neanche a farlo apposta. Sì. Fichi. Fichi ai fichi. Ai fichi. Grazie a quel signore là. Riprendilo. Cosimo. Cosimo sulla bicicletta. Ciao Cosimo! Cosimo che offerta. Cosimo. Offerto ai fichi. Imparate milanesi. Imparate. Imparate a dare ai bisognosi. Voi per ognuna di questa spendete 50 euro in strada. A noi in strada ce la regala. E noi le sappiamo. E noi il mercato lo conosciamo. E non sono importate. Ok? E noi in strada ce la regala.